Grazie eccellenza, molto velocemente solo perché condividiamo anche noi appunto l'indirizzo di questo emendamento, tenuto presente che sicuramente c'è necessità di una riflessione sulla situazione attuale del Paese per quanto riguarda la disponibilità di abitazioni. Questo però ripeto per due ragioni, uno per quello che dicevo prima, cioè aumentano i nuclei familiari di cui, peraltro gli ultimi dati dell'UPCEDES, praticamente i nuclei unifamiliari sono aumentati tantissimo, ci sono molte persone che vivono da sole, spesso appunto magari ho genitori divorziati, separati, oppure adulti che scelgono di vivere da soli, questo aumenta il numero di nuclei familiari, perché a tutti gli effetti anche un singolo da noi è considerato un nucleo familiare e quindi la necessità di una famiglia. Questo penso che sia interessante perché credo, questo lo dico molto francamente, credo che il nostro Paese debba fortemente puntare sul recupero della famiglia come veramente nucleo sociale importante. Perché? Perché evidentemente quando si sta insieme in più persone si occupa meno spazio e si spende di meno, perché questa è la verità. Ed è vero che invece la tendenza attuale è completamente al contrario. Quindi anche questa cosa qui è una questione culturale, non è semplicemente un'analisi delle disponibilità di immobili, ma è anche, dovremmo porci veramente una, dovremmo fare veramente una riflessione reale su quanto è di valore che, come dire, si possa aiutare il più possibile la famiglia a ritornare ad essere veramente protagonista all'interno della società, ma come nucleo familiare. Ora, un'altra cosa che è interessante vedere, e questa è un'altra ragione per cui penso che l'osservatorio sia molto interessante, ma sia anche estremamente delicato. È chiaro che l'osservatorio si è chiamato anche a fare una valutazione degli immobili e del valore degli immobili, perché chiaramente nel momento in cui si va ad analizzare il tessuto del nostro territorio, io immagino che facendo questa proposta ci possa essere anche questo interesse. In passato furono aumentate le renditi catastali. Notavo, con grande interesse, che nella relazione del 2018-2019 dell'UPECEDES si sottolinea come il 77% delle famiglie sanmarinesi sono proprietarie di una casa, di cui il 50% piene proprietarie. Per cui evidentemente anche questa cosa qua sarà molto interessante da valutare. Perché? Perché se c'è una parte di persone, circa il 20%, evidentemente, che affitta, il 77% in realtà, ci dice l'ufficio statistica, è proprietario. Per cui anche da questo punto di vista penso che l'analisi sia importante, ma sia importante anche per capire, come qualcuno che mi ha preceduto ha detto, cosa significa che i valori immobiliari a San Marino possono eventualmente non perdere, ma anche dall'altra parte dare la possibilità a chi chiaramente ha necessità di un'abitazione di poter affittare e dall'altra parte di fare in modo che quindi si arrivi ad un intervento organico. Per questo riteniamo che... Grazie.